Il segretario generale SILP CGL Davide Chiarenza in una nota parla di sicurezza pubblica e afferma che presenta due facce, quella dell'accoglienza e della solidarietà, che sono valori irrinunciabili, e quella della legalità, che è un bisogno fondamentale di ogni cittadino. Secondo il segretario generale SILP CGL la questione sicurezza deve essere affrontata dalle forze democratiche coniugandola con i valori della solidarietà e dell'accoglienza, altrimenti sarà sostenuta da altri in modo drastico.